oi ragazzaccio bentornato bentornato a te bentornato a me la storia è sempre la stessa proprio nel momento in cui ti convinci che finalmente sono sparito dalla circolazione finalmente ti sei liberato di me torno torno per romperti le scatole ma torno ovviamente non per parlarti dei fatti miei perché ahimè non ho fatti da raccontarti perché non sto facendo nient'altro che lavorare anche se tu mi dici che non lavoro mai invece ti assicuro sto lavorando e non faccio altro che quello sono tornato per parlarti di un nuovo giocattolino chiamiamolo così guardala questo è un bel aggeggio guarda che figata questa è la t1 di di y u questo è il brand non so esattamente come si pronuncia presumo di io non saprei come altro poterlo pronunciare è un brand che non conoscevo e che mi ha inviato questa t1 in test che ovviamente hai capito una piccola ma compatta e bike una bicicletta elettrica e ti devo dire una cosa questa bicicletta casca proprio a fagiolo adesso ti spiego perché in questo caso si un accenno di fatti miei te lo racconto perché finalmente succede qualcosa da raccontarti e per quello che non mi vedi perché non sto facendo niente sto solo lavorando sono impalato qua lavori al vm non ne sto facendo perché non ho il tempo perché inizio a lavorare la mattina 7 7 e mezzo e finisco la sera alle 6 e mezza alle 7 7 e mezza anche alle 8 lavoro anche il sabato quindi che lavoro devo fare in verità qualcosina minuscolo fatta ma non è che ti posso raccontare di me che ho avvitato un bullone non credo te ne freghi molto no non l'ho venduto il vm non l'ho bruciato non l'ho rottamato e francamente mi chiedo come questo sia possibile che io ancora non abbia fatto nessuna di queste tre cose perché ogni mattina quando lo vedo fuori dalla porta mi viene il vomito però prima o poi succederà anche questo e spero che sia venderlo e non rottamarlo o bruciarlo ma non lo escludo non lo escludo senti torniamo a bomba ti faccio vedere questa t1 di dio che tra l'altro è fighissima proprio come look e poi te ne parlo bene come ti piace a te dai ciao 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 Grazie a tutti. 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 ascalmente per un'occasione molto precisa. Cioè specifica. Nel senso che fra una ventina di giorni partirò da solo di nuovo. Questa volta non vado al mare, non vado in vacanza, non vado a fare niente, vado a lavorare di nuovo, vado a lavorare in Svizzera e siccome dove starò, dove staremo, perché non sarò da solo, ma non ti spoilero niente, ma non perché non voglio, ma siccome è una cosa che riguarda anche altre persone che magari segui, conosci, magari te lo voglio raccontare loro, io non ti voglio raccontare in anteprima i fatti altrui. Comunque vado a lavorare in Svizzera, il posto dove alloggeremo è un pochettino distante rispetto al posto dove lavoreremo, serve una biciclettina, un mezzo di trasporto comodo, questa secondo me è perfetta, soprattutto perfetta perché è compatta e pieghevole e io non ho il portabici, o meglio il portabici c'è ma non c'è tutto l'accrocchio per metterci le bici perché noi abbiamo il bagaglione dietro, sul camper, sul Laika, quindi me la riesco a mettere dentro, ok? Per il viaggio vado direttamente, in un giorno vado su da qua, vado direttamente là, quindi me la metto dentro, me la infilo sotto il tavolo della dinette che lei ci sta, bella compatta, la blocco, arrivo, la apro, la metto in funzione, me la metto fuori, a riparo magari sotto un telo, di giorno ci vado a lavorare, la sera quando torno indietro la metto in ricarica, la mattina dopo sono pronto ad andare di nuovo al lavoro, quindi cade veramente a fagiolo. Ecco perché nella copertina, nel video, insomma nel titolo hai letto me la porto in Svizzera, me la porto in Svizzera, se no ti diciamo me la porto da un'altra parte, invece no, vado in Svizzera, me la porto in Svizzera. Ma domanda fatidica, anzi due delle domande fatidiche. Come va? È una bici che va bene, va bene. Non è una bicicletta estrema che dici cazzo, ti porta su da sola, c'è un motorino. No, è una bicicletta onesta, il motorino è piccolo, 250 watt, non è estremamente potente, la risposta è buona, quello che aiuta questa bicicletta ad avere delle performance buone, più che buone secondo me, sono due, due cose. Il peso, ti ripeto, discretamente contenuto, 22 kg, è la rapportatura che è veramente a sto giro perfetta rispetto alla bicicletta che è. Con il rampichino in salita, ovviamente con la pedalata assistita accesa, unico livello, queste salite qua che ormai le conosci sono belle ripide, le fai. Cosa vuol dire le fai? Che devi pedalare, non è che prendi e va su da sola, però vai sciolto, tranquillo, non butti il sangue, ok? Ok, prendi e vai, frena bene, funziona bene, non ho veramente niente da dire, è una bici che si comporta molto molto bene, però c'è un però. Questa T1 di Diu, che ti ripeto, è un brand che non conoscevo, che provo per la prima volta, che scopro proprio da quella email che mi hanno mandato loro chiedendomi se io volessi testare per questa occasione di andare in Svizzera, se volessi testare questa bicicletta, l'ho scoperto proprio lì, l'ho conosciuto proprio lì questo brand. Questa T1 di Diu non costa poco. Per essere una bici 20 pollici, pieghevole, con un motorino da 250 watt, una dotazione comunque entry level, poche feature un po' elettroniche, un po' nerd, ok? Molto molto basic, seppur con un bel design, lega di magnesio, quello che vuoi, costa molto, perché il prezzo sul loro sito, il prezzo base, il prezzo di partenza, è di circa 850 euro. Io non mi nascondo dietro un dito. Sono tanti soldi? Forse, forse, perché poi non è il mio mestiere, quindi non mi permetto, forse sono troppi soldi. Però c'è sempre un però, c'è sempre un però, lo sai, 850 euro è il suo prezzo, diciamo, di listino, di partenza, di cartello, chiamalo come vuoi, ma è molto molto difficile che non trovi neanche un minimo sconto, una minima promozione. Quindi, tieni d'occhio il sito. Il link per acquistare questa T1 te lo lascio in descrizione, ti lascio anche il link eventualmente per acquistare altre biciclette del catalogo D.U., si dirà così, ma D.Y.U., io credo D.U., altre biciclette che ovviamente io non ho ancora avuto modo di testare, quindi di cui non ti posso dire assolutamente niente, però quello che ti volevo dire è che ti lascio il link, ti lascio anche un codice sconto, ma se sommi il mio, diciamo il mio, tra virgolette, il codice sconto che ho a disposizione per te, fondamentalmente, e se sommi anche la promozione in corso sul sito, su Amazon, devi tenerla d'occhio e trovi un'offerta, diciamo che messa insieme queste due cose, ti permette di acquistare la bici a 600-650 euro massimo, secondo me 700 euro, secondo me fai un ottimo acquisto, perché ti ripeto, la bici funziona bene, si comporta bene, è bella, perché comunque è bella, almeno a me ormai mi ha conquistato questo design, secondo me è bella. Il cambio funziona bene, il motorino fa il suo, è un po' scarna di dotazione, diciamo, tecnologica, nerd, quello è vero, però è una bicicletta che fa il suo, hai una buona autonomia, è una buona commuter, se la riesci a trovare 600-650-700 euro massimo, secondo me fai un ottimo acquisto, un molto buono acquisto, 600-650 euro, io mi sento di consigliarti l'acquisto di questa bicicletta, oltre, secondo me, forse non vale la pena. Te lo dico con sincera onestà, a me non viene in tasca niente, a me non mi viene mai chiesto di parlare bene di un prodotto, mi viene chiesto di parlare di un prodotto, io ti parlo del prodotto e ti dico quello che penso. 850 euro per questa bici, per quello che offre, sono un po' troppe, secondo me. Ascolta, io di questa DIU, DIU, T1, ti ho detto veramente tutto, quello che sapevo e quello che ti potevo dire, non è l'ultima volta che la vedrai, perché te l'ho già detto, me la porto in Svizzera, me la porto in Svizzera, andiamo in Svizzera insieme, andiamo io e te, dormiamo insieme io e te, così la notte ci accoccoliamo, anche perché sono da solo, quindi sarai tu la mia unica compagnia virtuale, la vedrai ancora, perché me la porto con me e sarà la mia commuter per andare, diciamo casa, che poi non è casa, però camper, camper lavoro, base, campo base lavoro, ecco sì, campo base lavoro. Tra l'altro ritorno, la sera è abbastanza tardi e buio, quindi buono che ci siano anche i due farettini, anteriore e posteriore, con tutti i limiti del caso che ti ho già raccontato. Allora, questa è la DIU, T1, se ti interessa trovi i link in descrizione, tutte le considerazioni del caso te le ho già fatte, trovi il codice sconto, poi vale sempre la solita regola della mia vita, vedi tu, cioè vedi tu, dipende da te, quelle che sono le tue esigenze, quelle che sono i tuoi gusti, quelle che sono le tue disponibilità, i tuoi interessi, io ti ho raccontato del prodotto, poi vedi tu. Mi sa che ci vediamo in Svizzera, lo sai? Perché ormai manca veramente poco, mi sa che ci vediamo in Svizzera. Va bene, bella, buona Svizzera a tutti, ciao. Svizzera a tutti.